ciao ragazzi ma soprattutto ciao ragazze oggi torno a parlarvi di un altro prodotto di bellezza il ferro ricciacapelli brown satin air 7 questo ferro utilizza la tecnologia iontec in cui milioni di ioni attivi ripristinano l'equilibrio idrico dei capelli domando l'effetto crespo e combattendo l'elettricità statica in altre parole protegge i capelli rendendoli lucidi e morbidi il design è semplice ed elegante il ferro ha un diametro di circa 2,5 centimetri ed è rivestito in ceramica che assicura la giusta distribuzione del calore per evitare di danneggiare e disidratare i capelli proteggendo ovviamente le punte il manico è ergonomico maneggevole e presenta un piccolo display lcd dove è possibile visualizzare la temperatura a tal proposito l'arricciacapelli brown satin air 7 iontec consente di scegliere tra 5 impostazioni di temperature partendo da 125 gradi fino a un massimo di 185 gradi il passaggio a una temperatura più alta o più bassa richiede pochissimo tempo al contrario ciò che richiede più tempo è il raffreddamento dell'asta il ferro funziona collegandosi alla corrente elettrica tramite un cavo lungo 2 metri quest'ultimo è girevole a 360 gradi e offre molta agilità inoltre presenta anche una protezione in gomma per evitare danni al filo di corrente l'arricciacapelli ha un tempo di riscaldamento di circa un minuto e si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inutilizzo come potete vedere la punta del ferro è rivestita di un materiale termico per evitare scottature concludendo posso dire che questo arricciacapelli brown fa bene il suo lavoro e sul rapporto qualità prezzo è veramente ottimo potete trovare l'arricciacapelli brown satin air 7 su bpm power.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale youtube se vi va lasciateci anche un bel commento vi aspetto al prossimo video e ai nostri prodotti di bellezza ciao ciao